Pizzolando Se cerchi gusto, qualità e varietà in una pizza, allora cerchi le specialità di Pizzolando. Da Pizzolando trovi le pizze più ricche e buone, impasto tradizionale, impasto integrale o senza glutine. Scegli la pizza che fa per te, da asporto, consegnata a domicilio o da gustare nella comoda veranda riscaldata. E allora che aspetti? Pizzolando in piazza Olivelli 5 a Castel Fiorentino. Chiuso il martedì, locale recensito da TripAdvisor. Scarica l'app gratuita Pizzolando per scoprire le varietà di pizza e il listino. Ci trovi su Facebook Pizzolando by Simone. Pizzolando! Yes!